Dai discorsi di San Bernardo Abate Sembra che si debba onorare un particolare tipo di santità in coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello essi che dopo molte vlotte ora trionfano già coronati nel cielo perché hanno combattuto come si deve c'è anche un'altra categoria di santi sì c'è ma è occulta ci sono infatti dei santi che ancora combattono corrono ma non hanno ancora conquistato il premio forse sembrerà temerario presentare santi di questa specie eppure so che uno di questi diceva arditamente a dio custodisci l'anima mia perché sono santo e l'apostolo che è stato messo a conoscenza dei segreti divini dice più apertamente sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che sono dio cioè per quelli che secondo il suo disegno sono chiamati santi ecco dunque con quale diverso significato viene nominata la santità alcuni sono detti santi perché hanno già raggiunto la perfezione altri invece solo in rapporto alla predestinazione una santità di questo genere è nascosta in dio e rinchiusa e viene celebrata nel segreto giacché non sa l'uomo se è degno d'amore o di odio dice il coelet e il suo futuro è incerto la celebrazione di questi santi resta dunque nel cuore di dio poiché il signore conosce i suoi e lui sa chi sono quelli che ha eletti fin dal principio sono celebrati anche dagli spiriti che governano il cosmo e sono mandati al servizio di coloro che otterranno l'eredità della salvezza ma a noi è vietato lodare chi è ancora in vita e come potrebbe essere sicura la lode se non lo è neanche la vita dice paolo non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole ascolta poi qual è la regola del combattimento dalla bocca dello stesso legislatore chi persevererà sino alla fine sarà salvato non sai chi persevererà chi combatterà secondo le regole non sai ancora chi riceverà la corona loda la virtù di coloro la cui vittoria è certa celebra con devozione gli uomini per le cui corone puoi congratularti i ricordi di ciascuno di loro come altrettante scintille anzi come fiaccole ardentissime accendono nelle anime fervorose il bruciante desiderio di vederli e abbracciarli la chiesa di quelle primizie ci attende con impazienza e noi non ce ne curiamo i santi ci desiderano e noi non enteniamo alcun conto i giusti ci aspettano e noi lo ignoriamo volutamente destiamoci una buona volta fratelli risorgiamo con cristo cerchiamo gustiamo le cose di lassù desideriamo coloro che ci desiderano affrettiamoci verso coloro che sono pronti ad accoglierci preveniamo con gli aneliti del cuore coloro che ci attendono e 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